Che ci combina Bitcoin oggi? Sta facendo un piccolo inciampo, dobbiamo preoccuparci, dobbiamo avere paura? Vi anticipo già di no, che per ora possiamo stare abbastanza tranquilli, ma andiamo a esaminare i grafici da vicino. Quindi andiamo a vedere i livelli di prezzo da tenere sotto controllo, quali sono gli scenari possibili in base ovviamente ai livelli di prezzo raggiunti e chiaramente come gestire le varie situazioni sul mercato. Oggi niente live, per quale motivo? Perché domani c'è un appuntamento bomba, sempre live, quindi ho detto non li voglio annoiare troppo con le mie ore e mezza di live ma facciamone solo uno domani e poi il solito appuntamento venerdì, tra l'altro venerdì ci saluteremo perché per due settimane dovrete fare senza di me che me ne vado in ferie e stacco un po' dalle cripto. L'appuntamento di domani è con Sébastien Berger di The Sandbox, il co-founder di The Sandbox, quindi una delle persone più importanti in assoluto del progetto che risponderà in diretta a tutte le vostre domande. È una bomba, è l'Ask Me Anything, è uno scioglilingua ufficiale in lingua italiana di The Sandbox. Quindi non mancate su Twitch domani alle 18 per Ask Me Anything con Sébastien, co-founder di The Sandbox. E ora basta, quindi buonasera amici criptoinvestitori e ben ritrovati a tutti quanti, se no mi dimentico la mia fila strocca d'ingresso. Andiamo a vedere insieme i grafici di Bitcoin, di Ethereum, delle principali altcoins sulle quali sono esposto, vi dico un po' l'evoluzione delle mie posizioni e poi andiamo ad analizzare qualche altcoin che mi avete chiesto voi, che so che seguite e andiamo un po' a vedere i grafici, i possibili setup e possibili gestioni del mercato. Basta chiacchiere e andiamo a farci una scorpacciata di grafici. Iniziamo ad analizzare il grafico di Bitcoin che appare un po' incerto, inizia a mostrare qualche segno di debolezza nei confronti del nuovo massimo che ha fatto recentemente. Nuovo massimo che è estremamente a rischio, parlo dei 12.500 che è stato un picco per l'appunto fatto proprio ieri, un picco tra l'altro che è stato tracciato in seguito a un attacco al pool di liquidità che si trovava sopra i 12.170. Questo era il primo livello che stavamo osservando. Come diciamo spesso, una volta che un pool di liquidità viene attaccato, è necessario vedere se la domanda all'offerta sopraggiunge in maggioranza. Per quale ragione? Perché il pool di liquidità in sostanza è una zona dove si trovano numerosi ordini stop, chiaramente essendo un precedente massimo, tutti coloro che hanno aperto delle posizioni short dopo il precedente massimo, verosimilmente hanno posizionato lo stop loss dello short sopra a quel livello lì, più o meno. E quindi questo lo rende molto appetibile per le balene, i cosiddetti grossi capitali, che andando a spostare il prezzo oltre a quel livello lì, sanno di far scattare questi stop. Facendo scattare questi stop generano liquidità in acquisto sulla quale possono compiere due mosse. La prima è quella di cavalcarla per portare un ulteriore rialzo, quindi innescare un allegapo, un movimento rialzista. La seconda cosa che possono fare invece è utilizzarla per andare a fillare i loro ordini short minimizzando lo slippage, ovvero la variazione di prezzo che i loro ordini short di grosse dimensioni potrebbero causare. Questo perché se una balena va a shortare improvvisamente in una situazione tipo questa, una situazione normale, va a causare una candelona rossa molto grande abbassando il prezzo e quindi andando a penalizzare se stesso in quanto lo short viene fillato anche a prezzi più bassi. Al contrario, e inoltre tra l'altro è molto più visibile anche dai retail e dai partecipanti a mercato che capiscono quindi le loro intenzioni meglio. Al contrario, quando vengono innescati questi pool di liquidità, quindi andando a generare degli ordini stop buy verso l'alto, si può utilizzare tutta questa liquidità per fillare ordini short senza andare a spostare particolarmente il prezzo, quindi in maniera un po' meno palese e soprattutto più vantaggiosa per la balena in questione. Come si fa a capire l'esito quindi di questo attacco al pool di liquidità? Beh, chiaramente lo si capisce principalmente dalla chiusura della candela del giorno stesso in cui si attacca il pool di liquidità e delle candele immediatamente successive. Questo perché? Perché ovviamente limitandosi al giorno stesso c'è il rischio di falso break. Ne conosciamo tanti di falsi break. Guardate, ce n'è uno giusto pochi giorni fa relativo alla chiusura, vedete, del giornaliero, del top giornaliero. E questo potrebbe risultare un altro falso break. Adesso è presto per dire è bullish o è bearish, perché il quadro comunque rimane chiaramente bullish e sul breve appunto dobbiamo capire un po' l'esito di questo attacco al pool di liquidità. Ieri la chiusura non era neanche malaccio, perché come vedete la shadow, uno degli elementi è il rapporto tra la lunghezza della shadow e il body. La shadow non era particolarmente lunga rispetto al body e questo mostra che comunque la domanda ha tenuto testa all'offerta, con volumi sopra la media. E questo quindi disegnava un quadro in cui la domanda appunto era in vantaggio. Oggi tuttavia c'è stato un attacco diretto da parte dell'offerta che si vede molto meglio su timeframes ridotti. Come vedete, andando a zoomare un po' su timeframe orario, vediamo innanzitutto le candele di domanda di ieri che hanno generato il movimento rialzista. Molto particolare è questa di Innesco che ha provato prima a bucare a ribasso, vedete, dove poi ha portato al field i long da parte dei grossi capitali, ve l'ho detto, il discorso è lo stesso, è stato attaccato il pool di liquidità qui sotto, andando a generare volumi immensi con anche degli stop sell, e qua sono stati fillati ordini long. E poi infatti la candela ha chiuso chiaramente in maniera bullish, perché era una candela verde dopo una shadow ribassista, quindi una sorta anche di failure swing se vogliamo, e poi il follow up, quindi la prosecuzione sulle candele successive, è stata di domanda, con volumi comunque sempre sopra la media. Quindi un bel movimento rialzista. Dopodiché è iniziato una fase di leggero storno che era abbastanza organica. Ecco, in realtà una cosa che poteva spaventare un pelino sono i volumi che si sono un po' appiattiti, che sono uno dei primi sintomi dei BART. Se vi ricordate, a volte ne parliamo quando parliamo dei BART, quelle formazioni un po' così, ecco, tipo quella di oggi, per capirci. Tuttavia, come vedete, abbiamo fatto una piccola flessione, alla quale è seguita proprio poche ore fa una candelozza di dump super super concentrata. In realtà c'è stato un segno anche precedente di tentato attacco a questo livello di supporto, perché questo è il daily close, no scusate, è proprio il livello di ex picco massimo, quindi dove risiedeva un tempo la liquidità e dove se la domanda doveva, deve farsi vedere, se si vuole far vedere, perché ancora in tempo, deve dimostrare che qui sotto, appunto, c'è liquidità in domanda. Quindi deve respingere il prezzo qui sopra e in questo caso il flip di questo livello da resistenza a supporto è confermato, perché il solo break purtroppo non è sufficiente e questa è una delle grosse difficoltà del trading contro una resistenza, cioè il capire come andarla ad approcciare. Pertanto adesso ci troviamo in una situazione abbastanza critica, perché abbiamo assorbito completamente quest'ultimo movimento, siamo tornati al punto di partenza, e domande offerte sono abbastanza indecise, sono in lotta un po' tra loro. Si vede qualche primo segno di domanda qui, in corrispondenza degli 11.800, che questo sì è il vecchio daily close, però vedete che non è particolarmente vigorosa, perché non c'è ancora stata una bella respinta. Quindi l'unico modo per far vincere di nuovo la domanda e continuare questo possibile breakout è di riassorbire in particolare quest'ultima candela. Quindi un segnale di possibile entry long a questo punto potrebbe essere un reclaim dei 12.170, quindi recuperare questo livello di prezzo e utilizzarlo come supporto, farlo flippare definitivamente a supporto. Torniamo un attimino indietro al time frame giornaliero, perché stamattina nell'analisi di Telegram, visto che ci trovavamo ancora in una situazione tipo questa, parentesi, trovate il link al mio canale Telegram in descrizione, anche pinnato nel primo commento, dove vedete in tempo reale un po' ogni giorno tutte le mie analisi, i miei trade, tutto quello che mi passa per la testa. Vi consiglio di iscrivervi. In ogni caso eravamo in una situazione molto più a favore della domanda, avevamo il close di ieri qua e la candelina di oggi che gravitava un po' qua sopra, e quindi si era aperta una possibilità di entry aggressivo, aggressivo che prevedeva un ingresso sui primi supporti, che è un po' quest'area qua, quindi la zona compresa tra la liquidità e il close giornaliero, questi due livelli, e lo stop loss anche lì era un po' a scelta, volendo, io ho proposto una sorta di livello che secondo me era un giusto mezzo, che poteva essere un 10.430, che è questo livello intermedio, un po' il range middle, se consideriamo questo come range nel quale gravitavamo prima del forse breakout, quindi il range middle poteva diventare uno stop loss, tuttavia adesso se dovessi dirlo col senno di ora, ovviamente eviterei un entry su questi livelli qui, per quale motivo? perché comunque l'offerta è stata violenta, su time frame intraday si vede molta indecisione, e quindi utilizzerei come trigger di ingresso, al momento, long, un reclaim, ve l'ho detto, dei 12.170, che porterebbe il daily a chiudere con una sorta di failure swing, quindi un falso attacco a ribasso, che poi viene assorbito, e risulta con una shadow molto lunga, e un body che chiude sopra, quindi questo è un setup molto bullish, in particolare se lo si contestualizza con il macro, che rimane chiaramente bullish, perché non è minimamente minacciato da questa situazione, parliamo di una lag up molto forte, dalla quale proveniamo, da una lateralizzazione, e da un possibile poi breakout, che adesso sembra stato assorbito, però questo assorbimento, qualora anche si rivelasse un assorbimento effettivo, renderebbe bearish soltanto il brevissimo termine, chiaramente, con target poi, di nuovo, il range low, il range middle, il range low, ma ne parliamo tra un secondo di questo, al contrario, il veder chiudere una candela, tipo quella di oggi, con un assorbimento, di nuovo da parte della domanda, di quest'ultimo attacco dell'offerta, sarebbe una delle cose più bullish mai viste, quindi un ottimo trigger long, che si configurerebbe in maniera pulitissima, tra l'altro con, entry, appunto nel caso rilevato poco fa, stop loss, qua sotto, vedete, sotto questo minimo, che equivale tra l'altro anche al top daily close, su quello che abbiamo visto prima, che nasce da qua, e quindi avremmo veramente un setup pulito pulito, con un rischio rendimento tutto sommato accettabile, e anzi, oserei anche dire buono, quindi questo è un po' lo scenario bullish, al contrario, lo scenario bearish, cancello un po' di roba se riesco, magari lo faccio dopo, vabbè, lo scenario bearish è la perdita del range high, quindi, questo qua, la 11.820, e la chiusura del daily close, insomma, era quello che fungeva da range high, considerando come intervallo di lateralizzazione, tutta questa area, il veder perso quel livello lì, purtroppo, ci riporta all'interno dello scenario di range, quindi, ritorniamo in lateralità, con, ahimè, un po' di selling pressure, data da questo falso break, che, rivelandosi quindi, a vittoria da parte dell'offerta, andrebbe a farci capire, che sono stati fillati, dai grossi capitali, parecchi short, e quindi, il target più probabile, di un movimento di questo tipo, potrebbe essere proprio il range low, tuttavia, ripeto di nuovo, non c'è nessun rischio, del bias di macro, quindi, di medio e lungo termine, proprio perché, ritorniamo in uno scenario laterale, postumo a un movimento rialzista, quindi, facciamo soltanto, un piccolo passo indietro, poi c'è da vedere, ovviamente, come domande offerte, lottano all'interno del range, quindi, attenzione, all'attacco al range low, come avverrà, chi prevarrà all'attacco al range low, quindi, se si verificheranno, nuovi falsi break del range low, ottimo setup long, se si dovessero verificare, dei breakout confermati, dal range low, allora lì, iniziamo a strizzarci un po', tuttavia, sono tutte cose, di cui parleremo in futuro, per il momento, la mia sincera opinione, è che io, non shorterei, l'eventuale riassorbimento, anche all'interno del range, proprio perché, nonostante, teoricamente, potrebbe essere un setup short, il falso breakout, in una situazione macro bullish, a me, non è che piaccia, particolarmente shortare, quindi, io, personalmente, preferirei attendere, un setup long, magari, nei dintorni del range low, ne parleremo, eventualmente, venerdì, se ci darà il tempo, il mercato, di vederlo, insomma, se si svilupperà a sufficienza, o, altrimenti, di attendere, l'esito nuovo, della lateralizzazione, vedere, se attaccheremo di nuovi massimi, e che cosa avremo intenzione di fare, questo è quanto per Bitcoin, un'occhiatina adesso a Ethereum, nonché una delle mie posizioni long, speculative, ma anche di holding, in ogni caso, Ethereum si sta comportando, in maniera abbastanza prevedibile, per il momento, vi ricordate, questo livello, che va dagli 0,0365, a 0,03856, e qualcosa, ecco, questo è il livello, di resistenza principale, che Ethereum, si trova, a dover affrontare, come vedete, è meglio visibile, poi, su time frame settimanale, in questa area, che io ho evidenziato, completamente in verde, ma in realtà, al momento, è più rossa che mai, perché è una bella resistenza, si va ad annidare, un sacco di liquidità in offerta, in quanto sono, è un livello, in cui, l'offerta deve difendere, se è interessata a farlo, le sue posizioni, basate su questi, tre precedenti top, sono due equivalenti, a 3,6504, e uno invece, questo superiore qua, a 3,8568, e questo proprio, è ciò che delinea, quest'area, abbiamo anche, dei picchi di liquidità, qui sopra, però, non è ancora il momento, di considerarli, perché al momento, ci troviamo proprio, in corrispondenza, di quest'area, che è un'area, in cui l'offerta, appunto, si deve annidare, per difendere, le sue posizioni, qualora fosse interessata a farla, infatti, un po' di offerta, si è fatta vedere, e abbiamo qualche primo, segno di flessione, abbiamo un tentativo, della candela settimanale scorsa, di chiudere lì dentro, fallito, e un piccolo follow up, di offerte, estremamente debole, che ha portato, a un sensibile ritracciamento, allora, se c'è un momento, in cui Ethereum, potrebbe ritracciare un po', è questo, in quanto, secondo me, se buca, tutto questo cluster di offerta, e arriva a puntellare, questi pool di liquidità, potrebbe avere, un altro bell'innesco rialzista, e quindi, fare un'altra leg up, marcata, a turbolenza, a volatilità, e diventa un po' complicato, andare a seguire il movimento, ok, si rischia veramente, di farsi del male, invece, al contrario, qualora adesso, dovesse ritracciare un po', quindi in maniera un po' più organica, avremmo dei supporti abbastanza chiari, cristallini, sui quali andare a impostare un'operatività, chiaramente long, in quanto il macro, comunque, è rialzista, vedete che l'ultimo movimento, è a rialzo, e siamo addirittura, in fase terminale, qualora, ovviamente, si verifichi, l'ultima leg up, di disegno, di un costrutto di bottom, veramente, di enorme portata, perché inizia, a settembre 2018, e termina oggi, qualora, ovviamente, venga rotto a rialzo, altrimenti, in ogni caso, abbiamo già creato, un costrutto di bottom locale, della durata di quasi un anno, che è stato rotto a rialzo, ed è proprio stato, l'innesco di quest'ultima leg up, quindi il quadro, io lo definisco bullish, in quest'ottica, di conseguenza, vado a cercare, ovviamente, il long, e dove lo vado a cercare? Allora, un primo riferimento, me lo dà questo clasterino intermedio, che si trova all'incirca, 0,0335, poi abbiamo un secondo supporto, che è a 0,0318, questo, dato da questo top, ok, in chiusura, durante la fase di downtrend, e infine, abbiamo quest'ultimo supporto, all'incirca, 0,028, ed intorni, se vogliamo, perché ho preso tutto il pool di liquidità, che si trova nella shadow, che ha tentato qui di bucare, quindi qua, sono state intrappolate un po' di posizioni, che poi sono state liquidate, insomma, è una situazione, in cui si va a generare un po' un pool di liquidità, lì pronto, poi, infatti, è successo così, durante il primo flip, vedete, anche se è stato solo sfiorato, effettivamente è stato pescato qualcosina da qua, e in ogni caso, rimane un pool di liquidità in domanda, chiaramente c'è una bella differenza, tra quest'area e questa, per quale motivo? Perché ovviamente, questo è un ritracciamento lieve, tutto sommato, questo è un ritracciamento profondo, se andiamo a tracciare, anche il nostro amico Fibonaccio, probabilmente ci conferma la cosa, dicendoci che, ok, vedete, qua è un 0,236, qua all'incirca un 382, occhio croce, e qua sotto invece ci troviamo tra il 50 e il 61,8, quindi più o meno, come potete vedere, abbiamo diversi gradi di ritracciamento, ma tutti accettabili, ecco, nessuno dei quali è a rischio inversione, il rischio inversione, io invece lo vedo, alla perdita degli 0,0261, quindi questa linea rossa, perché? Perché va a invalidare il costrutto di bottom, di cui parlavamo prima, teoricamente anche questo, potrebbe essere considerato allo stesso modo, però se vogliamo andare a lasciare un po' di respiro, a un'eventuale posizione accumulativa, spalmata, su questi tre livelli di supporto, si può fare, andando a utilizzare come stop placement, per lo stop placement, questo livello un pelino più in basso, chiaramente questa si configura, con una posizione più accumulativa, perché speculativamente, abbiamo un rischio rendimento, che invece tende a non essere proprio bellissimo, per andare a aprire un'eventuale posizione speculativa, invece è ottimale quest'area, quindi un eventuale long spalmato su quest'area qua, con uno stop loss, che diventa ahimè un pelino più difficile, perché non abbiamo riferimenti immediati, ma volendo potremmo utilizzare, ad esempio questa chiusura settimanale, con un po' di respiro, e andarlo a mettere da qualche parte qui sotto, in questo modo abbiamo un rischio rendimento, un po' più pulito, diciamo così, vedete che già tenendo i top locali, diventa un 2, poi ovviamente l'ipotesi è quella di, tenere la posizione trend follower, in quanto il macro comunque è a nostro favore, e quindi può diventare interessante, questo è quanto su Ethereum. L'altra mia posizione speculativa, long che ho aperto, è su Binance Coin, BNB, anche qui vi riporto il grafico settimanale, perché forse è un po' più chiaro, un po' più pulito, il giornaliero presenta parecchie anomalie, che sul settimanale vengono un po' filtrate, come vedete abbiamo dal basso, quest'area di supporto, che è stata il mio entry alla fine, ero entrato qua, in questo tempo, è da un po' che ce l'ho aperta, ed è da un po' che non si muove particolarmente, il mio stop loss si trova sotto i minimi, ormai lo saprete se mi seguite, quindi non sto più a descrivere di nuovo, tutta la posizione, basta che andate indietro di un live e la trovate, e basta in sostanza, perché poi l'idea era di tenerla trend follower, in quanto BNB, vabbè, è BNB, e inoltre stiamo davvero grattando un'area molto bassa, e quindi, visto che comunque BNB ha il suo cash flow, ha il suo rendimento, è un po' come comprare un'azione, diciamo, sottovalutata, questo, quanto meno il mio parere, supportato, tra l'altro, anche dal grafico, la domanda si deve palesare, appunto, in quest'area, e lo sta facendo, per il momento, se ci fate caso, qualsiasi approccio, tac, 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 non manca una settimana, che non approcci con quell'area lì, speriamo che a sto punto, la domanda inizi a spingere un po', e a rompere le resistenze, tuttavia, per ora, quello che si può dire, è che qualsiasi approccio, con quest'area, ha esito positivo, in quanto genera una shadow, e fa chiudere la candela sopra, quindi, il setup, al momento, la situazione che si può constatare, è quella di, lateralizzazione locale, dopo una respinta marcata, quindi rialzista, da parte della domanda, e un po', insomma, sta cercando il senso della sua vita, vuole capire un po' cosa vuole fare da grande, BNB, in alto abbiamo, un pool di liquidità, opprimenti in offerta, in basso abbiamo, un pool di liquidità, spingente, abbastanza carico, in domanda, e quindi è una situazione, veramente, veramente indecisa, dobbiamo iniziare, rompendo uno dei due livelli, quindi, questo qua, che è un po' il weekly close, il range high settimanale, da un micro range proprio, invece sotto abbiamo, vabbè, innanzitutto questo, se vogliamo anche disegnare, un piccolo range, o altrimenti, la nostra area di liquidità, in domanda, quindi, un primo segno di continuazione rialzista, potrebbe essere una chiusura settimanale qui, ma, quello che vorrei vedere, è un po' all'andarci a pescare, un po' di liquidità, qua sopra, e quindi, ricominciare a far salire, il movimento di mercato, è quello che io auspico, dunque, come dire, si potrebbe prendere ancora una posizione, sì, no, beh, in realtà, il quadro non cambia, rispetto alla mia visione iniziale, ovvero, dopo il break rialzista, e la rottura di questo blocco, la riconquista di questo mega range, quindi, il quadro, anche se abbastanza speculativo, abbastanza aggressivo, perché sul macro, non benissimo, come qualcuno degli amici di discord, mi faceva notare, perché arriviamo da un forte downtrend, poi abbiamo lateralizzato, poi abbiamo rotto a ribasso, accumulato un po', e siamo ritornati nel range, quindi sul piccolo, l'ultimissima parte è bullish, però il macro è bearish, va bene, perché arriviamo da una forte fase di downtrend, durata veramente tanto, e quindi è una posizione un po' biased la mia, un po' di parte, se vogliamo, perché io credo che BNB sia sottovalutata, e questo mi ha un po' influenzato, quindi, stando a tutte queste premesse, è ancora valida la mia visione, quindi, di andare a seguire questo pool di liquidità in domanda, come eventuale entry, stop loss sotto i minimi, larghissimo e rilassato, senza dover impazzire, nel caso appunto ci fosse un'altra shadow tipo questa, e posizione trend follower. L'altcoin che in questo momento, mi sta facendo godere di più, è REN, una coin che per quanto sia un fantastico progetto, inizia ad essere un po' iperestesa, e inizio a valutare dei take profit, proprio perché queste due ultime candele settimanali, sono decisamente esagerate, e quindi si inizia a ragionare dei take profit, è il momento di farlo. La posizione era veramente banale, cioè non serve un chissà quale capacità per andarla a capire, ve l'avevo postata su Telegram, tempo, tempo addietro, e si basava sull'entry, su un pool di liquidità, proprio generato, vedete, da questa shadow qui, poi c'è stato il break, il retest, e via, che è partita, quindi veramente una posizione, alla portata di chiunque, non serve andare a impazzire spesso, per trovare le posizioni migliori. Su Telegram, io l'avevo postata, poi vi ho un po' aggiornato nel tempo, che non c'era molto da dire, perché è un trend follower, che finora non vede nessuno swing high, perché stiamo ancora cercando l'high, e questo mi spavento un po', e mi porta a voler fare quasi quasi un take, anzi, senza quasi quasi un take profit, la logica sarebbe stata quella di seguire il trend, e a ogni high, poi farai il suo bel low, e via, e andare a spostare lo stop loss, di volta in volta, per fare trend follower, sotto ad ogni swing low, tuttavia appunto, dopo dei pump così estesi, faccio sempre l'eccezione alla regola, e il take pro, un take profit parziale, me lo porto a casa, perché sicuramente è cosa buona e giusta. Terminiamo con una carrellata di altre altcoins, partendo dalla chiacchieratissima Chainlink, Chainlink che sta mostrando qualche primo segno di debolezza, in particolare la rottura di questa struttura, quindi aveva formato un supportino, un cluster intermedio sul giornaliero, e quindi parliamo del breve, in una fase fortemente rialzista, quasi parabolica, userei dire, perché Chainlink, nonostante in tutto il suo storico, abbia sempre mostrato, un uptrend organico, molto ben fatto, costituito da fasi di rialzo, e ritracciamenti, in fase ciclica, e ve l'ho detto, molto organica, molto sana, ultimamente è partito in maniera parabolica, e quindi inizia a diventare pericoloso, e al momento iniziano i primi segni di storno, un po' più forti, diciamo, quindi potrebbe innescarsi appunto, una fase di ritracciamento, questo lo dice, il fatto che questo primo clusterino di supporto, è stato violentemente bucato ieri, da una candela di offerta, oggi è stato quasi ritestato, ma l'offerta sembra avere la meglio, quindi fino a reclaim di questo livello, la struttura rimane violata, e quindi sul brevissimissimo proprio, siamo ancora un po' bearish, il prossimo supporto abbastanza forte, si trova a 115.000 satoshi circa, questo secondo cluster intermedio, e qualora si dovesse presentare domanda qui sopra, sarebbe un buon segno, qualora dovessimo andare a perdere anche questo, l'atterraggio inizierebbe a diventare l'area di liquidità, intorno ai 95.000 satoshi ed intorni, quindi questi sono i livelli da tenere d'occhio, per il momento appunto, se si volesse provare in maniera iperaggressiva, ad afferrare il coltello che cade, 1 e 1 o 2 sono i livelli da considerare, lo short è un po' da folli, perché shortare chain link, insomma non ha mai storicamente portato a niente di buono, quindi me lo risparmierei, però al momento il movimento più plausibile, è proprio una cosa di questo tipo, più o meno ovviamente, sfera di cristallo alla mano. Andiamo avanti e osserviamo Tezos, che anch'esso è interessante, dove sei dove sei, eccoti qua, è interessante perché si sta muovendo, sul settimanale forse è più chiaro, all'interno di un bel range, qua è il range high e qua è il range low, range high a 3.594, range low 2.390, quindi questa è la fase laterale attualmente in corso. C'è stato un rifiuto del range high in quest'ultima settimana, quindi attenzione perché la rottura ribasso del range middle, 30-30 ed intorni, 3.000 facciamo, porterebbe a un eventuale altro tocco del range low, quindi una possibile accumulazione insomma, accumulazione qualora dovessimo di nuovo proseguire a ribasso, che sarebbe plausibile innanzitutto qua, su questo piccolo clasterino intermedio, che è 2.777, e a scendere insomma fino al range low stesso, questa è una posizione anticipatrice chiaramente, altrimenti ci sono tutti quei setup su range, in fase bullish però, perché chiaramente l'impostazione è fortemente rialzista, stiamo lateralizzando in seguito a un impulso a rialzo, quindi fortemente favorite i setup, scusate le posizioni long sul medio-lungo termine. Infine per terminare diamo un'occhiatina a Atom, che anch'essa è interessante perché ha stornato parecchio, perché potrebbe cavalcare l'onda di hype da Polkadot, in quanto navigano in un tema molto simile, che è quello dell'interoperabilità tra chain, Atom tra l'altro è pienamente funzionante, ci sono costruiti sopra progetti come Binance Chain, come Band, come tanti altri, e quindi parliamo di una coin che ha il suo valore. Ha il suo valore e ultimamente sta invertendo un po' la sua struttura, almeno così sembra, andando a violare uno e due cluster intermedi di resistenza a rialzo. Attualmente, proprio oggi, sta testando dall'alto l'ultimo cluster, e quindi poteva essere un'opportunità di buy the dip, e continua a essere, insomma questo continua a essere un primo livello di possibile entry, e questo un secondo. Lo stop loss si configura bene qua sotto, sotto ai 3000, facciamo anche, spostiamola anche un pelino più in basso, quindi qua, benissimo, con questo abbiamo terminato, quindi ricapitolando, non fatevi spaventare da questa flessione di Bitcoin, perché come vedete, tra l'altro sul settimanale è ancora più palese, siamo in una situazione ancora bullish, quindi ci sta magari anche a ritracciare un po', ritornare all'interno del range, ma anche in quel caso lì, nessun timore per adesso, perché non è ancora il caso di fasciarsi la testa. Vi ricordo che se non avete voglia, non volete prendervi la briga di gestire tutte le motività di ingresso e uscita da Bitcoin, ma volete un'alternativa semplice per seguire i suoi trend, sto creando, cioè sto sfruttando la piattaforma TokenSets per creare il mio set, che è una sorta di social trading, un trading condiviso, dove chiunque può aderire in maniera completamente DeFi, al momento è in pausa questo progetto per via delle fee esagerate di Ethereum, quindi costerebbe molto di più in fees per molti che l'acquisto del set, che il valore del set stesso, in ogni caso se siete interessati vi lascio il link nel primo commento, dove trovate tutti i dettagli, prima o poi lo lancerò, farò i dovuti tutorial, eccetera eccetera eccetera, qualcuno ha già aderito e sei veramente un grande. Detto questo vi saluto e vi ricordo domani di essere sul pezzo alle 18, perché abbiamo il live con Sebastien, un co-founder di The Sandbox, uno dei progetti più chiacchierati del momento, dove risponderemo a tutte le vostre domande, quindi guai a chi manca ragazzi, buona serata e alla prossima.